Green Pass al ristorante, al bar se si consuma all'interno, al cinema, al teatro e anche al museo. Ma il certificato verde pare non crea i problemi ai visitatori. A Possagno la Gipsoteca Canoviana, diretta da Moira Mascotto, si è organizzata per ridurre al massimo rallentamenti e garantire il rispetto delle norme anti-covid e la sicurezza. Tra Green Pass e tamponi negativi, mascherine da indossare sempre, misurazione della temperatura e distanze. Una piccola difficoltà che però può essere superata facilmente, basta fare appunto un tampone rapido e si ha la possibilità di accedere a tanta bellezza. Voi non avete riscontrato un calo di presenze? No, siamo contenti di quello che è l'afflusso presso il nostro museo. Un afflusso comunque controllato, in piena sicurezza, però siamo contenti perché vediamo che il lavoro che c'è stato negli ultimi mesi viene riconosciuto. i nostri visitatori continuano a farci visita. In effetti le persone che abbiamo avvicinato, tutte munite di Green Pass, lo vedono come un'occasione per ripartire in sicurezza e poter riassaporare le nostre bellezze. Lei si sente più sicuro? Sì, sì, al 100%, ma poi tutte queste misure servono proprio in favore di quelli che non lo fanno, quindi non capisco tutte queste polemiche. Secondo me è meglio, secondo me anzi è un incentivo per coloro che non vogliono vaccinarsi a spronarli a vaccinarsi perché a utilizzare determinati servizi è necessario il Green Pass. Quindi è una cosa positiva ed è un incentivo più che un deterrente. Io non ho avuto nessun problema, controllo 5 secondi e via. E vado dappertutto? Eh, vado dappertutto lo stesso, quindi anzi vado in più, magari sono incentivato ad andare in più posti magari, nel senso rispetto a prima che ero un po' bloccato.